La droga diventa sempre di più un prodotto che si compra, si consuma, lo si valorizza, ti piace per quello che ti piace, poi dopo va via con l'idea che io sono un consumatore, ho il diritto di consumarlo perché l'ho comprato e quindi mi compro la capacità di relazione, mi compro la capacità di protagonismo, di sentirmi di essere forte e muscoloso con questa illusione che lo compro quindi è lecito, a me non fa male. Il concetto è quello lì, invece di far fatica ad avere una relazione positiva, allegra, comunicativa, empatica, compro uno spino, x grammi di roba, questa emozione la vivo per il supporto della sostanza vegetale, come se si potesse comprare tutto, come se si potesse comprare le relazioni, l'essere in un ambiente un po' protagonisti, capace di dire, di decidere, di orientare. Non si può comprare, o è roba tua, o se si può trovare la sostanza chimica, quella vegetale, però in un mondo dove si compra tutto, passa anche questo messaggio. Grazie.